Anche la diocesi di Belluno-Feltre si prepara a celebrare domenica la festa di tutti i santi e lunedì la commemorazione dei fedeli defunti. Una ricorrenza che dovrà tener conto in questo 2020 necessariamente del contesto attuale di emergenza sanitaria e delle varie misure in vigore per fronteggiare la diffusione del virus. Ci sono due i momenti celebrativi che abbiamo, quelli in chiesa, la festa di tutti i santi, le messe e questo è normale secondo le precauzioni che sappiamo, distanziamento, mascherina, igienizzazione, attenzione davvero in tutto questo. C'è la possibilità anche di qualche momento di preghiera, anche di celebrazione nel cimitero. Solitamente nel nostro contesto il 2 novembre, il giorno della commemorazione dei morti, si può celebrare la messa. Deve essere, si può, ci si accorda anche col sindaco da parte dei parroci, essendo il cimitero non un ambiente parrocchiale ma comunale e quindi la celebrazione deve essere abbastanza contenuta, breve e soprattutto si deve mettere in atto queste disposizioni, il distanziamento almeno di un metro ma suggerirei di stare verso i due metri, la mascherina sempre e l'attenzione a non creare assembramenti di persone. Anche nel camminare nei cimiteri deve essere una visita così privata, personale. Questo camminare deve essere con un'attenzione di riconoscenza, di affetto e anche di sguardo, di fiducia che nasce anche dal fatto di sentire la partecipazione alla nostra vita, dei nostri cari. Le processioni sono già sospese, restano sospese in questi giorni. Una ricorrenza quanto mai significativa anche nel ricordo delle persone venute a mancare a causa del Covid.